Buongiorno sorrisini, allora noi siamo in un posto molto speciale, Ale e Zaba, e non solo noi. Stiamo facendo una cosa molto molto speciale, ora non possiamo dirvi ancora i dettagli, però seguiteci perché ne vedrete delle belle, sicuramente. Quindi vi faremo vedere questa giornata di backstage, giusto? Sì. Allora, qua c'è il primo ospite del video, scusate, insomma, di qualcosa ai miei follower. Ah, ma è un video? Sì, andrà su YouTube. Eh, tutti i tuoi follower sono sicuro che... Facciamole capire che cosa gli aspetta. Vorreste tutti una mamma così. No, 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 dobbiamo parlare di questa cosa. Ah, di questa cosa del video. No, devi dire tutto, cioè, devi dire un po'. Devi fare un po'. Creare un pochino di... Beh, diciamo che Vanessa, dopo il suo grande successo, ha deciso di scrivere un libro. No, non è vero. Non è vero. Come fanno tutti gli youtubers. Non sono così scontata, quindi questo non è vero, andiamo avanti. Cos'è che dobbiamo fare? Io non mi ricordo. Dai, cosa dobbiamo fare qui? Ah, un video? No, non si dice! Cos'è che dobbiamo fare? Ah, dobbiamo andare in macchina a prendere la roba! Esatto, esatto. Cioè, devi andare in macchina. Io sento per te, vado io. Può dire in mezzo. Guardate che sicchia. Ma che odio amola, ma sono quella mamma a sorriso. Io invece sono la mamma del rapper. Ehi, bambino mio, piccolino, piccolino. Amore, piccolino, vieni dalla mamma. Vieni dalla mamma che è pronto. Guardate. È pronto, mamma. È pronto. È pronto, mamma. Dicono, dicono, per i giganti, per i giganti. Che siamo noi, invece. Guardate qua che giganti. Mi sento un'altra. E dove fanno? Rapper. E lei è Miss Mama Sorriso. E lui è Paolo, Telly, DJ. Oh yeah! Come? Come cosa fa? C'è i riuniti tutti qua. Allora, caro, devi dire cosa stiamo facendo, ma non lo devi dire. Allora, stiamo facendo una cosa molto top secret, che è a breve spaccherà. Sì, la differenza tra un uomo e una donna. Ecco. E quindi a breve spacca questo videoclip. Esatto. Fai vedere solo un secondo. Guarda che lì c'è il regista. E c'è DJ Fiore. Ecco qua. Mentre Fiore non ci ascolta adesso. È tutto molto, è molto figo. È un pezzo che spacca del mio amico mamma. Non si può dire, avrà tutto, vero? No. Allora, possiamo dire che è un bel pezzo. Possiamo dire che... Lo che faccio io non è che sia bello. È il top in circolazione. È il top. The cream of the crop. Comunque, io non volevo essere più con voi. Io l'ho seduto lì tranquillo. Stiamo parlando con voi, che è molto simpatico. E tra l'altro... Saba è molto simpatico. È il primo che te lo dice. È il primo che te lo dice. Di argomenti interessanti, sì, perché è una persona seria. Di calcio, va bene, va bene. Stavamo parlando di calcio. Voi invece senti chiedi. Ma andiamo, dov'è? Non lo so, dov'è andato? Stai facendo il tuo porno. E qua. Ale? Vale? Sei pronto? Sei pronto? Chiara. Allora, Chiara. Ragazzi, guardate. Allora, Chiara. Ciao. Mi sta facendo risuscitare. No, vabbè, bellissimo. Avete visto? Un po' di trucco anch'io ogni tanto. Allora, Paolo, da truccata, domanda. Che cosa faremo oggi? Spiegaci questa giornata. Ah, non lo so, cosa me ne frega me, spiegalo tu. No, io non ho parole. Meno male che c'è lei, per fortuna c'è lei. No, che sono, sì, che cosa faccio? Guarda che sono truccata. Sei bellissima. Finalmente. Molto bene. Beh, ma la chiara è brava, eh? Eh, certo. È brava, sì, sì, sì. Mua. L'ho già presentata prima. Allora, guardate da chi vi faccio spiegare, perché siamo qui da una persona molto più seria. Guardate. Guardate chi c'è qua con me. Buongiorno, sono Ronald McTrump di Comic Shorts. Lo spieghiamo in inglese perché siamo qui. Vai. Hello, I'm Ronald McTrump, straight from the White House. And I'm here to do this pop video with Paolo Orteli. Cool. Very cool. Ma ora vi presento la vera star di questa giornata. Proprio star. La nostra regina. Salve a tutti ragazzi, è stato un piacere. Mamma sorriso è veramente meravigliosa. No, sei tu meravigliosa. Diciamo cosa abbiamo fatto. Oggi però non lo diciamo. Cioè, per incuriosire. Cosa abbiamo fatto oggi? Oggi però non lo dobbiamo dire. Dobbiamo dire ma non lo dobbiamo dire. Eh no. Oggi ci siamo divertite un sacco. Ok. Abbiamo ballato, ballato, recitato, giocato, abbiamo condiviso dei momenti bellissimi insieme. Wow. Abbiamo creato un'energia fantastica. Speriamo di permettervela. Perfetto, meglio di così non si può. Sembrate la famiglia a cuore. Ok. Ecco, noi si intromette sempre. Sempre. Noi siamo la famiglia a cuore. Noi sembriamo. Esatto. Esatto. Quindi preparatevi a vedere qualcosa di davvero speciale. Giusto? Pronti? Pronti? Via! È quasi pronto. Siete pronti? È quasi pronto! Ci siamo ragazzi. Ci siamo. Ci siamo. Anche io la visto. Ale. Non so se da qualcuno con te. Ciao. Sì, no. Si prontò? Sì, no. Sto a questa distanza. No. 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 No.